Farmacia Pintaudi, via Verga 104, Gela. Due minuti due, conduce Maria Concetta Goldini. Nuo appuntamento con due minuti due da Maria Concetta Goldini, un saluto a tutti gli ascoltatori. Il numero dei contagi è sceso, ma non c'è da cantare vittoria. Non è un dato che Gela va preso con un'euforia, perché tamboni se ne stanno facendo di meno, e il numero dei morti per Covid sale. Uno sguardo al fine settimana appena trascorso non va a ben sperare. A lungomare i bar della Movida erano strapieni di cittadini, uno accanto all'altro, in gran parte senza mascherina. C'era chi faceva selfie, chi si salutava affettuosamente, come se il Covid non esistesse più. Anzi, neanche freddo e pioggia hanno fatto da sete rende a certi comportamenti spiacevoli. Che succederà non appena si entrerà nel club dei festeggiamenti natalizi? È una domanda alla cui risposta non vorremmo mai dare. Se si pensa poi che il 7 gennaio torneranno a scuola gli studenti delle superiori, è facile comprendere le conseguenze di un Natale senza regola. Gela ancora una volta si ostina a non capire e si comporta come se fosse una zona franca dal Covid. Su come lottarlo si sa solo premere la tastiera del computer per criticare sui social, reclamare qualcosa e magari l'indomani reclamare l'esatto contrario. Tanta irrazionalità che può fare solo male. A chi, ai cittadini chiaramente, è ciascuno di noi, prima o poi, volendo o non volendo, si troverà di fronte ad una nuova realtà. Al prossimo appuntamento. Due minuti due, fatti e commenti in centoventi secondi di Maria Concetta Goldini. Due minuti due, il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela. Due minuti due, nella piattaforma mediatica di Radio Gela Express. In radio, sui social, nel sito e sulla app Radio Gela Express. Radio Gela Express. La farmacia Pintaudi è aperta anche il sabato mattina. Farmacia Pintaudi, professionalità, salute e servizi. Farmacia Pintaudi è dermocosmesi, con i migliori prodotti come Corf, Rilastil, Lierac, Somatoline e in esclusiva la linea MyCli. La farmacia Pintaudi presenta la linea di cosmetici Filorga. Filorga, tecnologia e innovazione per cosmetici di alta qualità. Le ultimissime novità Filorga per le tue scorte di bellezza o per originalissimi regali li trovi alla farmacia Pintaudi. Farmacia Pintaudi e Filorga, a garanzia di cosmetici sicuri sulla pelle e dall'efficacia provata. Non avete tempo per acquistare e ritirare i farmaci? Prenotare servizi o consulenze? Alla farmacia Pintaudi c'è il servizio chiedi, invia e ricevi. Servizio WhatsApp al numero 347 1895 431. Consegna a domicilio gratuito chiamando allo 0933 91 1161. Le farmacia Pintaudi ha realizzato un comodo ed esclusivo parcheggio gratuito riservato per i suoi clienti. Farmacia Pintaudi, via Verga 104, Gela. Medi Group Construction esegue lavori edili, opere stradali e ponteggi fissi. Dal 2008 si occupa della gestione delle cave, della lavorazione e commercializzazione degli inerti. Medi Group Construction si avvale di un impianto di betonaggio e di macchine per il movimento terra di alto standard qualitativo ed è molto attento alle materie prime impiegate e anche nel monitoraggio del prodotto finale. Medi Group Construction, via Venezia 372, Gela.